buongiorno a tutti io sono francesca boccafoschi professora associata in anatomia umana presso upo partner del progetto fame lab e presidente dell'associazione qual è il tuo ruolo in fame lab presento la selezione dei candidati in vista della finale del film in un'epoca di comunicazione globale la comunicazione scientifica ha assunto un ruolo essenziale anche per i nomi addetti ai lavori la scienza è e deve essere al servizio dell'uomo e perché questo possa essere compreso dalla società dobbiamo imparare a comunicare ci vediamo a torino l'11 maggio al cubo teatro in via pallavicino 35